Isole geografiche ipotetiche, luoghi di alterazioni fisiche e concettuali, terre che vivono una relazione talvolta armonica e talvolta traumatica tra passato e presente. Questi i percorsi di ricerca dell'artista Mario Valenti che martedì ha inaugurato la sua mostra di arte contemporanea denominata Sopra le Mura che ha trovato collocazione in piazza Duomo nel centro storico di Caprileone. La scelta di questo luogo, grande fonte di ispirazione e riflessione per il giovane artista caprileonese ha il proposito di gettare le fondamenta di una rinascita culturale di questo piccolo e antico borgo che negli ultimi anni si è sempre più spopolato. Lo spazio espositivo che racchiude opere di installazione, video, scultura, pittura e grafica sarà in continua evoluzione andando di pari passo e diventando fucina progettuale di nuovi lavori. Caprileone è una giornata appunto di rinnovamento, infatti la comunità riaccoglie dopo mesi in cui è stata sottoposta al lavoro di restauro l'antica statua del Santo Patrono San Costantino. In contemporanea appunto a questo lieto evento ho deciso di inaugurare questo spazio d'arte contemporanea sito in piazza Duomo. Qui diciamo la gente denomina l'area Sopra le Mura ed è così che ho voluto soprannominare questo spazio, questa sorta di showroom d'arte contemporanea. Io ho voluto appunto mettere a disposizione della fruibilità pubblica le mie opere, opere realizzate nell'arco degli ultimi quattro anni. e appunto è un viaggio alla ricerca di realtà ipotetiche attinte dal paesaggio e dal territorio. È un viaggio appunto che comprende sia la pittura che la scultura che l'installazione e appunto dove cerco di raccontare quella che è un po' la mia ricerca, il mio percorso a livello artistico. In questa mostra si vede oggi tanta bellezza, tanta passione e tanto amore per il proprio lavoro. È veramente bello vedere quest'angolo di Caprileone addobbato con queste opere d'arte. Faccio i miei complimenti a Mario Valenti per il lavoro che ha fatto e per come mette il cuore in tutto quello che fa.